va bene direi che ci siamo tuttolo gig surf episodio 9 oggi siamo con alessandro piu che è sette volte se non sbaglio campione italiano giusto ale ciao ciao ragazzi come stai tutto bene tutto bene voi che mi dite non è anche bene dai siamo siamo in ritmo ormai quella tutto il mediterraneo anche qua adesso abbastanza piatto ragazzi ci credo dal periodo è quello però ci rifacciamo provando a parlare di surf e anche di ricordi passati perché in tutti questi anni te con la tua esperienza i tuoi viaggi e le tue avventure avrai sicuramente molto a raccontare io vorrei iniziare così chiedendoti di partire da quel racconto quella storia che ti sarà capitato più volte nella vita di parlare non lo so ad una cena ad un gruppo di amici o anche magari a una ragazza e quindi raccontami quella storia che proprio dici cavolo questa la devo dire ma guarda sicuramente una delle storie più incredibili è stato guarda ce ne sono due in verità una è sono andato in norvegia forse è stato il trip più incredibile perché mi trovo in australia da quattro mesi poi un mio amico mi aveva dalla svezia mi ha detto guarda c'è questo progetto dobbiamo andare nel nord della norvegia però deve essere qua in tre giorni io ho detto ok e sono preso un volo mi sono fermato in sardegna tipo 12 ore mi è venuta pure la febbre lo stanchissimo poi sono andato in svezia e da lì abbiamo fatto venti ore di guida in macchina in mezzo alla neve per raggiungere allo foten nelle isole del nord quindi dei fiordi e il cameraman e il fotografo due fotografi max larson tra l'altro molto bravo e siamo stati lì dieci giorni in questa cabina la cabin davanti al fiordo e mi ricordo che avevamo quando siamo arrivati lì ero veramente cotto ed era buio e mi hanno svegliato tipo guarda guarda fuori e ho guardato fuori c'era l'orora boleale io la vedevo tipo bianca non capivo niente avevo un po la febbre e quindi mi ricordo avevamo quattro ore di luce quindi in quelle quattro ore noi dovevamo far tutto avevamo il computer google cercavamo le onde c'è una mergiata molto grossa e quindi cercavamo le onde all'interno dei fiordi quindi immaginati quanto era fredda l'acqua e quindi solo per perdere una mano un giorno perché mi sento andate mi sento racchiusa così però veramente delle emozioni incredibili poi ho visto dei paesaggi ragazzi se fare con queste queste isole davanti mezze innevate cioè veramente un environment incredibile un paesaggio cioè veramente wild è stata forse quella più di essere nato magari alla vacca in spagna onde grandi quello è stato proprio da pazzi veramente ma ma scusate avete beccato anche onde buone alla fine beh sì abbiamo girato un video si chiama col seduction si trova su vimeo ma anche su google dura tre minuti e siamo finiti anche su tough pick di vimeo quindi ci hanno selezionato da new york per quella per quel video insomma è molto artistico c'è anche una musica col pianoforte poi sai molto molto emotivo però veramente bello mi è piaciuto anche col montaggio devo dire e scusa non per farmi gli affari tuoi ma questa persona che conoscevi in svezia cioè da dove è uno dei più bravi in svezia tra l'altro surfano ha surfato per la nazionale si chiama team latte ed è un amico d'infanzia diciamo ci siamo conosciuti alle gare pro junior in francia quando avevo magari 15 anni e poi siamo stati in indonesia insieme e sai queste persone che incontri alla fine le vedi poco però sono amici che rimangono per sempre alla fine quindi quando c'è l'occasione li coinvolgi tu o ti coinvolgono loro alla fine viene sempre è sempre un momento speciale perché quelli vedi poco quindi quando stai magari 10 15 giorni insieme è uno spazio insomma divertentissimo figata poi dall'australia estremo davvero ci hai messo proprio la rincorsa no ma proprio da un punto all'altro c'è proprio fatto il giro del mondo devo dire Tommy vai domanda a te io in merito alla tua esperienza e visto che hai vissuto comunque varie epoche surfistiche volevo chiederti quanto è cambiato il mondo del surf da quando ha iniziato te ad oggi allora il mondo del surf sicuramente è cambiato tanto io mi ricordo che prima si viveva guardando magari le riviste sai si guardavano le riviste e idolatravi questi surfisti vedevi kelly slater vedevi andy irons mick fanning joel parkinson e quindi diventavano degli idoli e non avevi modo di di vedere all'interno cioè bene la loro vita perché adesso con con instagram con i social insomma cioè puoi vedere veramente tanto della vita di ognuno anche di questi di queste leggende alla fine riesci anche a vedere che sono persone anche alcune persone normali no prima invece della travi e ed era tutto un tutto un sogno era questo lo sport dei re no prima avevi l'occasione magari di incontrare una volta nella vita una persona tipo marco cilupo che veniva in italia e faceva il tour cioè non so se avete mai avuto l'occasione ero andato a roma si è venuto anche qua da noi da zed andy irons io ho visto anche c'è una foto con lui che ho qui in 13 anni anch'io io per dirvi ho avevo in camera mia praticamente due poster uno c'era andy irons sopra e uno bruce irons ma non avevo idea perché non c'erano scritti i nomi non avevo idea che fossero fratelli ed erano i miei idoli perché e poi scoperto che erano fratelli e comunque non c'era modo di sapere diventa diventa tutto quando c'è meno comunicazione a volte diventa tutto più più magico sì 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 questo è vero e qui in italia come è cambiato in italia è cambiato beh dipende sono stati degli apici poi di nuovo un po più in basso prima magari anche le gare è capitato che c'erano degli anni che facevano tante gare giravano molti soldi c'erano molte aziende che investivano avevano anche magari più budget ora un po la crisi e tutto e alla fine sono cambiate un po di cose prima si facevano magari dei piani magari tre quattro anni di sponsorizzazione adesso magari due anni cioè è un po diverso un po tutto imprevedibile abbiamo vissuto anche negli ultimi anni che abbiamo visto che da un giorno all'altro cambia la realtà e quindi dobbiamo soprattutto goderci quello che abbiamo capito è cambiato molto i ragazzi però hanno molte più possibilità di evolvere questo di sicuro perché comunque hanno la possibilità di vedere di stare a contatto tramite i social e hanno la possibilità di viaggiare di stare a contatto comunque con persone e farsi un'idea di quanto è alto il livello potersi allenare con i coach andare insomma è tutto più veloce però ci sono molte il livello è più alto quindi è più difficile per i ragazzi però hanno tantissime possibilità sì sì anche perché ormai il surf parliamoci chiaro è diventato una moda quindi anche dal basso c'è un altro tipo di fermento e arrivano molte più persone e questo secondo te è un bene o un male? ma è un sicuramente un bene dipende da come lo vediamo ci sono diversi anche i business magari per esempio ci sono molti beginners che iniziano a surfare voi però magari vedi che nelle line up entrano magari persone che magari io aspettavo che ne so prima di entrare in uno spot dei più famosi in Sardegna aspettavo anche due tre anni ho aspettato altri invece magari prendono la tavola due uscite magari li trovi in acqua quindi c'è il pro e contro di questo diciamo del fatto che il surf è diventato famoso dipende da come lo vediamo sicuramente è più difficile educare una persona a diventare un surfista e a conoscere tutte le regole perché c'è così tanta gente che anche una scuola come fa magari ci sono scuole che hanno 100 persone alla settimana così a fare lezioni ma poi vedi anche grandi aziende tipo aziende di moda che si che fanno pubblicità di surf bisognerebbe forse canalizzare un po' canalare un po' questa questa cosa del surf in qualcosa che può dare di più al settore capito magari non solamente l'immagine capito sì 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 perché come dici tu infatti il surf è di moda e piace alla moda ad esempio non è un caso che tante grandi aziende di moda vogliano mettere il naso in questo mondo ma poi succede come dici tu che fanno una cosa passeggera come quei turisti che arrivano in Italia stanno poco non lasciano granché non creano indotto e se ne vanno la stessa cosa fanno le grandi aziende di moda col surf e purtroppo non riescono a fare qualcosa anche per i surfisti fanno dei prodotti che interessano solo a loro io mi ricordo che lei ha un argomento che stavamo parlando anticipato prima Ale quello delle gare che è un argomento che abbiamo già affrontato nelle puntate precedenti con altri ragazzi e vorrei chiedere proprio Ale che è stato sette volte campione italiano cosa ne pensa di questo sistema di gare che c'è ora ovvero dell'assegnazione del titolo con gara secca sì penso che però sia negli ultimi tre anni questo format insomma c'è sempre stata una gara in Italia questo favorisce o sfavorisce? cioè vince veramente sempre più forte o può essere anche più casual? va bene nelle gare non sempre però ci sono tanti fattori però questo sicuramente avvantaggia da una speranza in più a quelli che magari sono meno costanti e che si giocano il tutto per tutto cioè basta che quel giorno magari uno non sta tanto in forma non si sente bene insomma e può perdere proprio il titolo magari anche la persona che è più quotata insomma e quindi anche quello è un gioco per creare magari audience però ovviamente quando si parla di VSL è una cosa perché hanno un seguito 10 a 1 se non di meno per l'Italia anche mille in Italia penso che si serva proprio il circuito per creare comunque una comunità forte un giro anche gli sponsor che dicono cavolo dobbiamo investire nel surf ma dove investiamo capito? cioè dove possiamo investire se non c'è magari un campionato capito? una tappa sola? non saprei io per quanto mi riguarda la cosa non mi preoccupa perché a me piace molto gareggiare mi sento un surfista costante nei risultati quindi comunque anche se fossero 3-4 tappe mi andrebbe bene forse mi divertirei anche di più perché comunque mi manca devo dire che mi manca molto le gare, il circuito sì, devo dire che io forse ti dico preferirei anche un circuito magari di 4-5 tappe dove poterci incontrare, migliorare, capito? creare dei legami con gli altri atleti ci sono tanti atleti, dunque tanti surfisti che stanno emergendo hanno bisogno secondo me di un qualcosa, di un circuito ci sono quelli più esperti, gli emergenti cioè fa tutto parte di un sistema evolutivo del surf, capito? chiamiamolo sport dai però del surf in sé addirittura diciamo in Australia, in America organizzano le gare scolastiche per dirti, le gare dei club ecco, per non andare troppo lontano, le gare dei club le gare dei club le fanno ogni mese, ok? se vai in Australia vai a Manly e trovi le gare dei club cioè club di Bondi, di Manly, di Sydney, di Freshwater e fanno magari, che ne so, semplicemente una gridiata e ci sono i giudici, fanno la gara tutto il giorno si mangia, si vive, si scherza e i ragazzi creano un legame e si allenano, ok? perché magari hanno delle tappe durante l'anno ma comunque il livello si alza, c'è competitività e alla fine danno un premio che può essere magari un viaggio o un premio comunque anche in denaro è abbastanza semplice come cosa però ci vuole un attimo, secondo me, un passo indietro per fare di più, capito? quello che voglio dirti cioè non bisogna essere troppo a canetti sul sistema bisogna vederlo intanto per quello che è ragazzi, è il surf, non è, capito? non stiamo parlando di calcio è il surf, c'è una sua base, una sua storia se perdiamo quella, si perde il senso proprio di questo sport per quanto mi riguarda hai ragione, hai portato un esempio molto interessante io credevo che stessi andando a parare sul fatto che in paesi così avanzati nella cultura surfistica che sono addirittura i campionati regionali cioè ogni stato ha il suo campionato ci sono mille tipologie di gare ad ogni livello e con vari gradi di competizione però in Italia, secondo me, è quello che manca per riuscire ad avere tipo un dream tour in Italia perché di onde anche diverse il point, lo slab, magari il beach break ne abbiamo tantissime l'abbiamo detto in una puntata proprio con Gio Evangelista e Pippo Eschiti il fatto probabilmente è che manca il contesto quindi gli sponsor non vogliono investire solo in una gara ma vogliono investire in un contesto quindi magari fare la gara nel weekend innanzitutto se è possibile creare degli eventi a contorno portare la gente creare dei personaggi perché poi di fatto voi surfisti atleti avete un seguito online ma sarebbe bello che questo seguito si trasmettesse anche in un evento pubblico di persona e questa è una cosa su cui secondo me si potrà lavorare in futuro magari potremmo essere un inizio per incentivare qualcosa vediamo diciamo che noi siamo la nuova generazione che è arrivata a un punto che comunque possiamo dare possiamo creare qualcosa di buono io quando ero più piccolo mi ricordo che facevano un top 44 era un campionato di una federazione mi sembra surfing Italia forse una cosa del genere e cosa facevano loro? c'erano i top 44 che erano 40 atleti più 4 wildcard 40 atleti qualificati i migliori in Italia poi c'erano i regionali devi vedere come se le davano ai regionali c'era erano forse durato due anni ma si barra tre guarda ed era una figata così è impegnativo sì è figo perché tutti anche diciamo tra virgolette di serie B comunque eri spronato dice io voglio andare in top 44 però ci devi arrivare capito? quindi alla fine ti ritrovavi lì e rappresentavi un po' anche la tua regione capito? figo e lì in quel momento in quegli anni gli sponsor stavano stavano aumentando molto c'erano dei bei giri comunque di aziende anche di auto fuori settore anche comunque anche aziende come Quicksilver Ripcar e altri investivano c'è stato un momento che pensavo che stessimo veramente andando forte io penso che il surf è una cosa molto delicata e abbiamo ancora tanto da imparare come nazione prima di pensare a risultati manovre bisogna capire perché non è solo una questione di onde capito? bisogna capire perché certe nazioni riescono a evolversi più velocemente forse è il mind setting generale che è diverso non lo so c'è una cosa di te che apprezzo molto che è la passione con cui ci racconti la tua terra e in merito a questo qualche anno fa hai realizzato un bellissimo film che al di là del surf poi ha avuto quasi un taglio da documentario che era Back to the Roots che devo dire a me è piaciuto molto e io Leo mi conosce sa quanto sono critico nei confronti delle uscite video, film, foto e via discorrendo e devo dire secondo me sei stato l'unico forse in Italia che è riuscito a realizzare un prodotto del genere con una qualità così alta e con veramente delle belle immagini e una bella storia dietro delle belle onde e una bella storia dietro ti va di raccontarci un pochino come tenuta l'idea e soprattutto quanto è solo difficile mettere in pratica in Italia o cose del genere guarda intanto devo tantissimo come vi ho detto prima forse prima che iniziassimo la live che Gianluca Fortunato è stato un fattore importantissimo senza di lui non sarebbe mai uscito niente diciamo che è nato tutto in verità che noi siamo conosciuti in Portogallo l'anno prima e poi dissi guarda io ho intenzione di fare un video però non sapevo bene la durata di questo video avevo questa scintilla che stai quando ti viene l'idea e cresce cresce poi ti esce un film lo sogni la notte riesci a scriverlo mi sono messo a scrivere che non l'avevo mai fatto io i testi li hai scritti te? quelli che dici in inglese che leggi in inglese bravo molto bene e quindi abbiamo praticamente cioè venuto fuori io avevo nella mia testa il film già però mi serviva comunque riuscire a a renderlo vero ed era veramente uno di sé è stata però ho portato in poche parole il la cultura del road trip che ho conosciuto in Australia perché là prendono e partono con una settimana libera fanno magari sette giorni e se ne vanno da Sydney a Brisbane si fanno fino a Queensland e ho detto ma in Sardegna comunque non lo fa ma un po' in Italia l'ho visto fare però in Sardegna non lo faceva nessuno quindi ho deciso di riportare questa questa cultura del road trip in Sardegna quindi ho detto ma perché non girare per l'isola alla scoperta comunque della mia cultura perché ho viaggiato tantissimo sono sempre impegnato a conoscere le culture dove sono stato in giro per il mondo però non conoscevo proprio così bene la mia terra e man mano che mi sono appassionato a conoscerla studiando studiando saltavano fuori tante cose interessanti e alla fine ho scoperto che c'era una storia ancora non non raccontata neanche nei libri quindi mi ha appassionato tantissimo e abbiamo unito con la chiave del surf quindi il surf è stato un tramite proprio per far conoscere tutta la cultura e non solo anche il fatto che c'è una storia surfistica molto importante qui abbiamo personaggi come Graziano Lai che è insomma uno dei giudici più forti della storia d'Italia giudice internazionale è riconosciuto anche da Lisa da Fernando il boss diciamo dell'ISA e poi persone come Maurizio Spina sono stati presidenti di altre federazioni insomma comunque la Sardegna è stata un po' sempre la mecca del surf mediterraneo ok quindi anche raccontare questa storia surfistica anche attraverso le parole di Graziano per esempio che raccontava com'era proprio lo sport dei re e com'è cambiato com'era bello incontrarsi in spiaggia non c'erano i telefonini e incontravi un altro e dicevi ah meno male che c'è qualcuno che posso fare un po' di onde insieme capito surfiamo insieme e quindi tutto questo racchiuso con un filo logico ha fatto sì che venisse fuori Back to the Roots però questo Back to the Roots dico è stato un progetto autofinanziato ok quindi dà molta soddisfazione il fatto che comunque sai era un po' difficile perché è difficile spiegare un progetto giorni d'oggi alle aziende comunque agli enti cioè quando è una cosa troppo originale ok che in teoria non potrebbe essere che dice un ragazzo un surfista e quest'altro ragazzo Gianluca si mettono a fare un film di surf e dicono ci vuole la troupe ci vuole certo ci sono tante cose che ovviamente con una troupe sarebbe stato più semplice però questa cosa mi rende molto felice il fatto di essere riuscito nell'intento grazie solo al fatto che tante persone mi hanno voluto bene e mi hanno aiutato alla realizzazione del progetto quindi insomma è stata una gran cosa veramente Oale tra l'altro in questi giorni è fuori il secondo capitolo di quel bellissimo bellissimo documentario di Torren Martin e Isca com'è che si chiama Tommy lui fortissimo Isca qualcosa ma c'è ragazzi la seconda puntata è Marocco la prima è Scozia e Irlanda e anche loro fanno un road trip in due e la qualità dell'immagine è incredibile quindi sei dei precursori cioè tu hai fatto in Sardegna quello che loro stanno facendo lungo l'Europa con penso loro sponsorizzati da Need Essential per vedere mute no? Sì 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 infatti io sono sponsorizzato da Need Essential lavoriamo insieme facciamo è visto anche c'è vedi anche Back to the Roots ha un po' quel flow che non io come certista sono quello che racconta cioè non è su di me il film capito è un film che parla dell'isola e molte persone prima di vederlo pensavano magari abituati magari ad altri film che sono usciti prima che era molto incentrato sull'atleta perché diciamo i surfisti vogliono un po' apparire ok gli piace però quando fai un passettino indietro delle volte però ci devi credere veramente perché se no stona cioè io veramente volevo far conoscere la mia isola le mie onde la cultura se fosse stato un po' fake penso che si sarebbe visto tantissimo quindi era cioè usciva o non usciva capito un documentario sull'isola perché era comunque fatto col cuore e questo l'hanno notato tutti praticamente quindi io ci ho messo tanto impegno abbiamo fatto un mese e mezzo di editing ragazzi da mattina a sera e un giorno Gianluca ha pure lanciato una sedia al muro stava impazzendo quattro mesi eh ragazzi quattro mesi noi abbiamo cominciato a editare abbiamo cominciato a editare quando stavamo ancora finendo di filmare cioè dovevamo già iniziare cioè immaginati io la testa stava esplodendo però però dai dai ne è valsa la pena beh sì complimenti molto bello e una domanda invece che ti faccio tu hai detto che vi siete autoprodotti autofinanziati e poi dopo col successo che avete avuto vendendolo noleggiandolo tramite Vimeo siete riusciti comunque quanto meno a rientrare dei costi ma sì quello sì però è stato più che altro il fatto che hanno visto nel mi hanno potuto conoscere eh ai film festival eccetera comunque come persona eh ho avuto molti contatti diciamo poi ho rappresentato la Sardegna eh in questi film festival sono stati a Lisbona e ho parlato con un c'era questo cinema sono state mille persone cioè era bellissimo questo cinema antico poi eh insomma sono trovato tante situazioni purtroppo non sono potuto andare a a San Francisco all'International Ocean Film Festival perché è scoppiato il covid e dovevo anche andare da lì in Russia perché dovevo andare a un altro film festival e saremmo dovuto andare anche in Canada e in Canada abbiamo vinto però era purtroppo hanno fatto online online sì però cavolo guarda era a fianco a un lago gigante questo posto se non mi ricordo il paesino comunque Great Lakes Film Festival anche lì era era bello invece a San Francisco ci sarebbe stato Rob Machado tutta questa gente insomma era ritorno di immagine grossa anche soddisfazione personale sì soddisfazione personale su una cosa veramente pura cioè comunque io l'ho fatto perché proprio sai anche quel periodo là lo sappiamo tutti che c'è un po' di casino quel periodo quindi un pochettino ero anche è stato un po' un rigetto ok di quello che è successo ragazzi cioè alla fine io ho iniziato a surfare perché perché ho guardato Mercurio da Leone da piccolo cioè di quello che stiamo parlando capito quello che voglio dire è che per me il surf è un'altra cosa poiché il performing che mi si è allenato tanto sono andato anche in California mi si è allenato con Ian Caines ho fatto tante cose per migliorarmi però quando diventa una cosa non sana via troppo costruita e succedono cose che non ti fanno star bene alla fine quello per me è stato un rigetto perché ho detto cavolo ma questo non è quello che voglio non è quello che dovrebbe essere in generale tutto quanto quindi voglio fare una cosa che nessuno può metterci becco capito che dici questo è quello che voglio fare questa è quella la mia visione del surf e penso che il risultato del film abbia dato faccia capire che quando fai le cose con la purezza hanno tutto un altro sapore capito tornando la domanda che mi hai fatto prima della gara per dirti intanto io ti voglio dire che Matteo cioè tu mi hai fatto il nome Matteo ma Matteo io lo rispetto tantissimo cioè ti ripeto ci surfiamo assieme infatti io non sapevo cioè io penso che voi siete amici non so nulla tra te Matteo è un bravissimo ragazzo Matteo cioè voglio dire pure venuto qui cioè abbiamo già avuto Giulio Caruso cioè li ho visti che erano degli scriccioli capito bravi ragazzi ti ripeto una gara non preclude quello che è il rispetto per le persone cioè alla fine poi si parla di una gara di manco fosse il campionato del mondo cioè quindi ragazzi cioè cerchiamo anche di ridimensionare quello che sono certe cose capito specialmente in uno sport come il surf assolutamente senti e comunque però devo dire che infatti questa cosa io non la capisco cioè il tuo video probabilmente è proprio il messaggio opposto però in Sardegna alla fine se in Italia c'è il campanilismo anche voi in Sardegna non scherzate tra quello che sta lì quello che sta là cioè avete quasi le torri voglio dire per usare questa metamola siamo in Uraga che sono lì sono tutti collegati ma com'è sto fatto però che c'è tutta questa competizione tra voi i surfisti sardi perché siete un popolo orgoglioso di testoni allora bisogna dire che comunque dalla Sardegna escono surfisti comunque forse anche per questo escono surfisti abbastanza tosti dai c'è è vero sono io c'è Matteo c'è Francisco c'è altri ragazzi noi abbiamo Giovanni Costu che è surfata paura sono tantissime persone che potrei nominare abbiamo Giulietto i ragazzini tipo Federico Melis Jacopo Ceccare già ce ne sono un sacco anche delle leggende adesso che non li sono nominando tutti perché se no la finisco domani alle sette del mattino però diciamo che la Sardegna è un'isola ma non è come le Canarie ok che è un'isola piccola o come le Azzorre insomma non è Bali cioè è grande come isola quindi è quasi due regioni ok quindi quando vai a nord ci metti tre ore ad arrivare e quindi quando ti vedono a nord si fanno ah ma cosa ci fai ma non per per dirti cosa cioè semplicemente dicono cavolo sei venuto le avviso sto arrivando cioè non è un attimo sei in su capito quindi penso che anche il fatto che sia grande l'isola poi il sardo insomma il carattere un po' un po' del sardo è comunque ma diciamo ci sono i pro e contro di tutto di vivere in un'isola ok io cerco di prendere sempre il meglio guarda alla fine certo tanto poi alla fine quello che interessa è surfare stare a me e beccare le onde migliori e poi rispettare in acqua cioè voglio dire io poi per la mia esperienza ti dico che ormai preferisco magari remare meno onde ma prendere quelle buone perché ormai per esempio la priority no che è entrata nelle competizioni la priority è il free surfing fondamentalmente ok cioè non è che puoi arrivare sul picco dopo che prendere un'onda ritorni ti rimetti in precedenza riparti e quell'altro cioè te non surfi magari certo e quindi questa cosa qua comunque è rispettosa nel senso stare entrare in acqua avere l'esperienza di scegliere le onde giuste quindi non prenderne tante perché poi quando arriva quella bella magari sta in priorità e ne montalaremo cioè è un po' di esperienza fare la fila e aspettare sì sì bravo alla fine anche in gara premia perché è uno che pia tutte le onde non ha mai la priority quando arriva la serie a meno che non sia un brasiliano e tiri su gli airpure su le mezze onde infatti ritorniamo al discorso dei alieni di quei tre che ci sono è chiaro quelli sono imprendibili io avrei paura anche se avessi fatto 19 nella hit e lui è senza priorità tipo un Gabriel Medina anche con mezzo metodo d'onda mi faccio il segno tipo sei quell'onda che prende cinque secondi dalla fine ti fai proprio il segno della croce da tirare segni capito vabbè dai ciao vabbè ma quelli quelli è proprio non lo so io mi ricordo la finale in Portogallo che era contro Jordi Smith che Jordi Smith tipo venti secondi dalla fine ha preso l'onda ha fatto 9.70 vinceva lui è arrivato Italo 10 si 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 oh puoi entra è vinto Italo per 0.30 aspetta ma che manovra aveva fatto è una roba sì reverse backside due reverse su un'onda chiusi tutte e due di cui l'ultimo altissimo sulla battigia chiusa allora che gente solo a pensarlo ti senti male però voi vi siete accorti che Italo Ferrera sta succedendo un po' quello che stava succedendo a Gezonandre ce l'avete presente Gezonandre voi sì beh cosa è successo sì ma cosa dici di Italo Gezonandre praticamente faceva un manovrone che era uno mezzo scappottone grebbato reverse no faceva questa manovra a bottone e poi faceva la rotazione grebbata però mezzo scappottone ok a un certo punto ha cominciato a farla fisso sempre 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 e giudici li abbassavano il botto li abbassavano i punteggi infatti è successo che Italo Ferrera non ha esso non mi ricordo forse è la seconda tappa quando è saltato sulla tavola e l'ha spezzata sì prima lui aveva fatto l'air reverse l'aveva atterrato cioè se l'atterravo io era ancora che faceva il game ma ancora oggi anche se poi la schiuma mi ha preso ma dice ma sti cazzi e l'aveva preso la schiuma e cominciano a non dargli punteggiare meno che non lo fa perfetto ok questo perché comunque per quanto sia bellissimo vedere quella manovra ora vederla da uno schermo sempre la stessa con lomino grosso così nello schermo che fa questa cosa sì è bello però diventa un po' monotono capito quindi io penso che Italo Pereira si sia accorto di questa cosa infatti ho visto che stava surfando cioè comunque stava cercando di non farlo sempre variando di più che sa fare anche altro capito perché era già un bel po' che stava facendo sempre questa manovra per salvarsi o comunque per fare lo score ok cioè una delle due onde migliori la faceva con quella sempre se non tutta non l'avevo notata questa cosa però quindi dici che praticamente ormai è diventato uno standard e non lo premiano più dicono tanto questa la puoi fare a occhi chiusi beh a meno che non la fa perfetta perché comunque la fanno veramente in pochi con la manovra in gara poi con tutta quella pressione poi così costante c'è ogni hit le spara uno due tre e quindi io capisco anche i giudici perché bisogna però bisogna avere ci bisogna guardare bene queste cose perché alla fine sono piccolezze devi conoscere un po' bene il mondo delle surf devi esserci stato nelle gare senti tornando alle cose nostre invece ti faccio questa domanda a trabocchetto quante onde ancora segrete esistono in Sardegna e tu vuoi sapere troppo però no non voglio sapere dove voglio sapere dite una cosa a Matteo non l'hai chiesto no non te le dice neanche lui a Matteo non glielo chiedo perché è ancora troppo giovane se solo apre bocca secondo me date un pattone che se lo ricorda mettiamo un nastro esatto bravo ma guarda sì ce ne sono ce ne sono però ci sono delle onde che non si cioè ci deve arrivare veramente a piedi alcune anche a est ci sono delle onde che fu dei slabbettoni non è un tema però ti dico la verità non mi è ancora capitato alcune onde di filmarle adesso vorrei anche filmare qualche onda nuova sicuramente però il fatto è che adesso sta facendo non so se avete notato che nel Mediterraneo sta facendo queste bolle costanti adesso si è fermato ok però negli ultimi due mesi qua in Sardegna ha fatto tanto a maggio ha fatto onde a stecca però maestrale non è che da noi non è sempre schifo però ascolta no quello che voglio dire è che sta facendo delle onde di un metro cioè e quindi questi spot di cui si sto parlando non funzionano cioè fa tante onde ma vai sul beach break per esempio in costa ovest bene i beach break che sono i più esposti di esserfi là e quindi vi dico è già bel po' di mesi che non sto surfando le onde diciamo tante virgolette un po' più nascoste sì sarebbe figo un video di tutte onde che nessuno sa dove siano come abbiamo detto con Eugenio Barcelloni filmate belle strette che nessuno capisce bravo sì filmate strette belle anche Eugenio la sa lunga sui video beh Eugenio sì 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 ci abbiamo parlato all'ultima puntata e ci ha detto un po' di cosette interessanti torniamoci al discorso sponsor te Alex è stato per anni nel team Quicksilver ha avuto modo comunque di vivere l'epoca loro del surf e la domanda che ti voglio fare è attualmente riesci a vivere i surf e a realizzare i tuoi progetti con i sponsor o è diventato molto più complicato beh sicuramente non è facile ok io cerco di rinnovarmi con tante cose sempre a Nessar Surf ovviamente però ti dico la verità te mi hai fatto l'esempio di Quicksilver ma Quicksilver non era quello che pagava di più quello che pagava di più è stato Aion con Fanatic perché comunque erano entrati nel settore molto strong e tra l'altro mi avevano sponsorizzato perché sono andati in Italia a fare il tour dei negozi e parlavano sempre di me o bene o male parlavano sempre di me però poi in verità ho scoperto che non sapevano nemmeno se tipo il primo mese non sapevano nemmeno se ero goofy o regular te lo giuro mi pagavano bene ragazzi vi dico stipendiato stipendiato veramente cioè figo e quindi però dici cazzo non sapevano nemmeno se ero goofy o regular ce ne erano talmente tanti Ale che vogliamo dargli erano semplicemente venivano dal kite e dal windsurf fanatic e gli serviva non gli affrecava niente dovevano fare business e abbiamo fatto un bel lavoro ti dico la verità loro però non interessava tanto cioè non è che ne sapesse di surf dovevano entrare nel settore magari che ne so sì io avrei magari fatto per esempio un anno di prova però se quello era l'anno che dovevano entrare sono entrati proprio lanciandosi e quindi abbiamo fatto lì ho conosciuto Ayrton Cozzolino abbiamo fatto un sacco di cose siamo andati in Australia insieme abbiamo giocato un sacco di video insieme e siamo andati anche alle Mauritius con tutto il team abbiamo fatto un sacco di un vento guarda un vento ragazzi ho preso là dovevo surfare alle 6 del mattino alle Mauritius perché andavo col barchino di notte perché lì c'erano fatto un meeting Ion Fanatic North Sales enorme in questo resort con il riff davanti privato sì grazie però erano andati lì perché c'era un vento della madonna capito e io ho fatto ma come cioè siamo venuti qua e allora io andavo col tipo con altri due col barchino di notte così e poi un'ora e poi entrava un vento a stecca laterale ovviamente le madonna così e poi tornavo e facevo un po' di windsurf andavo così poi un moitino così comunque stavo le Mauritius sì stavo le Mauritius non era il mio modo di viaggiare perché siamo stati proprio nel resort dieci giorni e io me la sarei voluta visitare le Mauritius però vabbè insomma non si sputa sul piatto dove si mangia esatto e quindi mi sono divertito di brutto e devo dire che ho fatto quattro anni con Ion è stato sicuramente lo sponsor più insieme a Fanatic la sponsorizzazione più importante forse è una delle più importanti mai raggiunti in Italia ovviamente dopo Leo sicuramente però è stato un bel traguardo perché io dico cavolo sono venuto dal Mediterraneo ho avuto un sogno ho iniziato appunto con un mercoledaleone volevo fare professionista e comunque e allora sono arrivato a un punto che proprio credi in te ma dici ce la posso fare comunque capito però ovviamente ci sono nella vita surfistica come quella di un musicista di un pittore comunque un artista così vai vai un po' su giù così e stai nel flow capito ti organizzi poi nei giorni d'oggi ti devi rinnovare come vediamo tutti non puoi non puoi solo fare tipo le gare ce ne sono migliaia di persone che fanno gare adesso è importante farti una tua immagine avere un nome magari che ha una sua identità associata a qualcosa esatto la gente si può fidare qualsiasi cosa tu vuoi fare non sei mai sceso a compromessi ecco questa è una cosa che a me mi ha sempre aiutato ah le voi io so che c'è un'altra cosa che ci vuoi raccontare ne parlavamo prima a microfoni spenti un po' in chiacchiera e ci hai raccontato questa cosa incredibile cioè che te hai fatto fuori nella tua carriera in una hit uno che andrà alle olimpiadi se non sbaglio si era Leon Glatzer che si è qualificato per per la Germania si è una bella hit ci siamo fatti alla Cano la Cano Pro QS era iniziata un po' strana questa hit perché avevo sto ragazzo portoghese che era partito su un'onda io avevo la priorità e questo ha cominciato a urlarmi e gli ho fatto la priorità che botta c'hai infatti poi ce l'ha rimasto così perché lui era convinto che era la sua e c'era Leon Glatzer che stava surfando a bomba c'erano queste destrone destrone io ero gasato ed era era il terzo turno mi sembra e ho surfato però avevo preso un 5 e poi Leo e Leon era primo fino agli ultimi tre minuti poi ho preso questa destra avevo fatto tipo un layback abbastanza pesante e un'altra manovra così e sono uscito dall'acqua che stavamo facendo waiting for the score waiting for the score poi io in quel periodo ero nello stesso team di Leon Glatzer perché eravamo sponsorizzati da Pure Self Camp che era una ditta tedesca di camp e praticamente mi fa last wave of Alessandro Piu 4.51 or something get the lead e ho proprio detto ha fatto da cazzo così e lui c'era un po' rimasto ti dico comunque è forte cioè ragazzi va all'Olimpiadi questo ragazzo però quando c'hai il gas dai mille per cento comunque cioè con la hit ero magari 10 a 1 ero dato capito nel senso che comunque è molto probabile che vinceva lui la hit ovviamente è una hit ragazzi nel senso erano 20 minuti non è che uno è più bravo cioè assolutamente no però in una hit può succedere di tutto però era pur sempre un inedito Italia-Germania nel surf e battere la Germania dà sempre un sapore particolare italiani sì come Italia-Francia un po' esatto rosica un po' però comunque lui non è proprio tedesco lui no no lui è cresciuto in Costa Rica Costa Rica si vede che c'è un surf molto spumeggiante molto aerial tante cose così rotazioni fa degli air giganti è una molla c'è una leva assurda assurda incontri quelle persone magari in hit a fare la gara e ti guardano il tuo avversario e ti mangia con gli occhi perché magari quello si è si è fatto un mazzo per essere là e non vuole uscire dalla hit e quindi tu devi trovare dentro di te la forza e comunque il gas per sovrastare è un guarda che le gare si vincono anche comunque le hit a volte si vincono anche prima di surfare dipende perché c'è uno scambio di energia sai a me è capitato di essere di finire sotto o di essere quello che sta sopra quindi quello dipende da te stesso cioè da veramente quello che hai fatto il lavoro che hai fatto quanto credi in te sono tantissime cose ragazzi per cui lo ripeto come prima non è solo fare le manovre cioè alla fine è un'estensione dell'anima il surf e quindi se sei forte dentro riesci comunque a trovare la via capito qualcosa qualcosa riesci comunque a creare capito no ma vista così però è un concetto interessante cioè che conti la testa nello sport è fuori di dubbio però esatto magari l'atteggiamento l'attitude che hai quanto riesci a trasmettere la tua sicurezza e la mentalità di dire oh questa hit sarei pure più bravo ma io scendo in acqua e do tutto qualcuno magari ogni tanto può accedere è vero senti alle prima di chiudere io ti voglio fare la domanda delle domande cioè cosa vuoi fare da grande spero insomma soprattutto di star bene star felice a me piace molto girare stare in mezzo a altre culture creare dei progetti insomma fare qualcosa che mi appaga ecco magari esattamente al 100% non ti so dire perché alla fine si dica una cosa però magari se mi chiedi tra dieci anni sto facendo tutt'altro non lo so però conoscere anche mi piace molto anche la storia per dirti cioè unire magari capito la storia antica tu sai che molti sport cioè scusami molti spot che ci sono per esempio nazioni come il Perù il Messico non so se a te è mai capitato di studiare queste cose però ci sono molte molte cose antiche antichissime come le strisce di Nazca per dirti io vorrei andare a surfare e poi andare a vedere queste cose capito cioè avere la possibilità di farlo al di là del fatto lavorativo se mi chiedi una cosa che voglio fare da grande è surfare e conoscere la storia per farmi un'idea un po' mia di quello che può essere successo nel tempo via questo è quello che mi piacerebbe ho visto di recente su Stab un film un documentario sulla Liberia che racconta la storia recente di un paese falcidiato dalle guerre ed è molto interessante questo ruolo del surfista esploratore che indaga appunto una cultura e riesce a raccontare una storia anche attraverso il suo surf e la scoperta delle persone quindi è una cosa molto molto bella interessante secondo me diventerà un trend nei prossimi anni cioè ci saranno aziende interessate ad investire in progetti del genere e tu menzionavi il Peru ad esempio sono stato in Cile lì c'è l'isola di Rapanui che ha tantissima storia l'isola di Pasqua cioè lì sono onde incredibili c'è un posto con una storia tra l'altro nell'isola di Pasqua c'è un Uraghe quando chiuderai questa chiamata andrai a digitare e dirai aveva ragione Alessandro c'è un Uraghe incredibile allora prossimo obiettivo Sardinia e Tucile oh ragazzi poi ovviamente se dei cetri vieni in Sardegna mi fate sapere e si va a fare una surfata e una mangiata eh volentieri alla grazia con lo spirito giusto garba dai mi sembra il modo perfetto per finire questa puntata nel giusto spirito Sardin la tipica ospitalità della tua terra grazie Ale siamo stati molto bene ti auguriamo allora il meglio di seguire questi progetti magari ci incroceremo in qualche strada chissà va bene volentieri ragazzi grazie a voi grazie mille ciao Ale a presto ciao ciao